Siamo appunto a Conegliano Veneto nel Trevigiano, una delle zone più colpite dalle grandinate terribili di questi giorni. Sono con Roberto Sandro, produttore vitivinicolo della CIA Agricoltori Italiani e con Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco Valdobbiadene di OCG. Un'eccellenza per noi e intanto appunto volevamo mostrare, tra l'altro il casale che vedete alle mie spalle, i vetri erano completamente saltati. Mi dicevi, avete cercato di ripararlo come potevate e la grandina era impressionante. Sì, ci sono stati due eventi grandinigeni, cioè quello del 24 Sera che aveva dei chicchi di grandine di una pezzatura mai vista e quell'evento non ha fatto grossi danni per fortuna sui vigneti, piuttosto sugli edifici, sui casali, sui capannoni. Mentre il danno un po' più evidente si è avuto il 25 di notte, il 25 Sera, dove parte della produzione ovviamente è stata compromessa. Per fortuna non è stato compromesso tutto il raccolto, anzi insomma la grandine come sempre va un po' a macchia di leopardo. Perché lei ha 100 ettari in varie zone, sia ad hoc che di OCG per la produzione di prosecco e vini, per cui in altre aree si è salvato. Qui è quasi, però mi diceva il 50%. Sì, qua, oddio, la stima dei danni non la possiamo fare noi, ma la farà sempre gli estimatori dell'assicurazione della grandine. Certo che le percentuali sono abbastanza importanti, dopo il Glera, grazie a Dio, è una varietà che recupera molto bene durante la stagione. Se siamo attenti con le prossime tappe culturali dovremmo riuscire comunque ad avere una produzione abbastanza soddisfacente. Cercate di salvare il salvaglio, mi diceva per il futuro anche questi tralci effettivamente sono danneggiati. La grandine ovviamente non danneggia solo gli acini, danneggia anche i cappi a frutto del prossimo anno, che sono il tralcio che produrrà uva per il prossimo anno, ovviamente sono danneggiati e non compromessi. Ovviamente in potatura dovremmo essere molto bravi e attenti a cercare di salvare quelli giusti. Salvare il salvaglio. Certo, certo. E appunto con Elvira Bortolomiol farei un quadro un pochino più ampio su questo.